possa mediare su questa maggioranza che su questo fronte è abbastanza curioso che Draghi si sia appoggiato a una proposta, scusate non mi veniva la parola, ai fratelli d'Italia e quindi dell'opposizione. Fratelli d'Italia di fatto ha riportato, diciamo, messo in luce un impegno che c'era, ma a parte ciò io non credo che in una situazione di questo tipo, con una pandemia che è appena finita, è una guerra in corso, qualcuno possa assumersi la responsabilità di una crisi di governo, per cui secondo me è un fiume di parole che poi si concluderà con il nulla. È anche ovvio, sai, siamo in una fase, bene o male, in cui abbiamo anche appuntamenti elettorali e quindi devi mandare dei segnali, tu prima hai fatto vedere quel sondaggio all'elettorato di riferimento, ma che qualcuno, soprattutto un ex premier, si assuma la responsabilità in un momento del genere di creare una crisi di governo o di provocare una crisi di governo, beh, mi sembra una cosa che mi meraviglierebbe molto. Molto. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, ho visto Del Mastro guardare l'orologio, resta o deve andare? Mi sta per partire un treno. Ah, sta per partire il treno? No, per carità. Pubblicità, grazie a Del Mastro, poi torniamo noi per l'ultima parte.